Cartier Panther, eleganza senza tempo nell'alta orologeria. Gli orologi da polso sono da sempre molto più di semplici strumenti per tenere il tempo, sono dichiarazioni di stile, personalità e status sociale. Quando si parla di orologi di lusso, il nome Cartier emerge come un faro di eleganza senza tempo e prestigio. La sua cassa quadrata, con angoli arrotondati e cinturino integrato, richiama l'agilità e la forza di una Pantera. La scelta tra acciaio inossidabile o oro offre una varietà di stili, permettendo a chi lo indossa di esprimere la propria individualità. Il quadrante del Cartier Panther è un'opera d'arte in sé. La sua superficie, disponibile in finiture argentea, nera o blu, è un esempio di semplicità raffinata. Tuttavia, è l'attenzione ai dettagli che lo distingue. I numeri romani neri ben definiti segnano le ore, mentre le lancette blu a forma di spada aggiungono un tocco di colore e stile. Il quadrante è protetto da un cristallo zaffiro antigraffio, garantendo che l'orologio rimanga impeccabile nel tempo, resistendo alle sfide della vita quotidiana. Oltre al suo design affascinante, il Cartier Panther è dotato di un movimento svizzero al quarzo di alta precisione. Questo movimento non solo aggiunge un elemento di prestigio, ma assicura anche una misurazione del tempo accurata e affidabile. Il cinturino del Cartier Panther è realizzato con cura in acciaio inossidabile o oro, a seconda della preferenza individuale. La sua forma integrata si fonde perfettamente con la cassa, creando un look armonioso e pulito. La chiusura deployante non solo aggiunge un tocco di sicurezza, ma assicura anche che l'orologio rimanga saldamente al polso in modo sicuro e confortevole. Con il suo design affascinante, movimento di alta precisione e materiali di alta qualità, il Panther rappresenta l'apice dell'orologeria di lusso.